Sì, figurati, ma di che? E' un classico, che tu cerchi una cosa convinta di averla messa in un posto, invece in un altro. Ero convinto, dai, non sei mai convinto fino a un posto. Meglio così dai. registrazione dal posto di Tappunton. Ero convinto, dove sopra la sede di Tappunton. Da quanto si sta a fare, avevo un po di potere. Non c'era qualcosa di… No, non c'era questo. È un caldo. Sì, non c'era qualcosa di più. Tappunto è un certo il titolo, ma non c'era nella situazione di servizio non c'era più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.